A Gubbio si è tenuto un quadrangolare di altissimo livello, il Memorial Rampini che ha visto protagonista anche la Bartoccini Perugia, neopromossa in A1 femminile. La compagine perugina si è classificata al quarto posto dopo aver perduto la semifinale con Scandicci e la cosiddetta finalina a cui si riferiscono le immagini con Firenze per 3-0. E' stato comunque un contesto importante in vista dell'ormai prossimo avvio di campionato e proprio su questo aspetto si è soffermato coach Fabio Bovari a fine evento. Sentiamola. Essendo una nea promossa dobbiamo lottare con tutti cercando di raccimolare punti in ogni campo. E' chiaro che dobbiamo organizzarci meglio in quanto ancora il campionato non lo conosciamo a pieno e la rossa è tutta nuova. Quindi abbiamo bisogno di amalgam, abbiamo bisogno di gioco, abbiamo bisogno di cercare di capire come funziona un campionato di A1 e poi cercare di organizzarci nel miglior modo possibile. Ci stiamo lavorando, è una squadra che lavora molto, è una squadra che sicuramente andando avanti qualcosa di più rispetto a quello che avete visto oggi farà.